Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono qui oggi di nuovo ormai sarete anche stanche di sentire la mia voce in questi giorni vero e con le presentazioni ci ho dato dentro parecchio sono qui oggi per presentarvi il TM150 di BGR che è uscito ieri sera e ci ho dato un occhio anche perché comunque sono diciamo sono molto credo molto in questo modo e perché ha buone capacità buone potenzialità e nei suoi trattori tralasciando quello del mod contest si vedono veramente tra questo il cux 175 e la grandissima imballatrice John Deere se vi ricordate che ho presentato ha veramente dato sfoggio delle sue capacità e questo trattore ne la conferma prima di andare avanti con la presentazione con le mie solite prediche volevo far vedere una chicca di niggas che mi era dimenticato sulla presentazione di questa mappa guardate qua con mappator trigger porca miseria non so se ve ne siete accorti voi ma ve lo dico io guardate che roba questo qui è fuori dal normale andiamo di qua allora vi dicevo io ho scaricato la versione MR così per provare anche un po i pesi la potenza e tutto e devo dire che si comporta molto molto bene come modello è ottimo ha buone texture ha le ruote che mi piacciono veramente un sacco sono molto belle ha il dirt col valore di uno quindi non retta si sporca ha l'ic e niente comunque leggero come modello come dettagli è veramente 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 ottimo mi piace mi piace molto anche perché di new holland diciamo fatti da dio non ce ne sono tantissimi come vedete qui c'è un'altra versione che è praticamente la stessa solo che ci ho aggiunto le doppie ruote che vi verranno date sui soliti bancali che si montano con con i tasti M e N come potete vedere c'è anche un caricatore attaccato questo qui diciamo ha una funzione che voi da fuori all'occhio che questa qui la potete questa cosa qui che so per fare la potete fare solo quando siete allo shop praticamente voi da fuori vi avvicinate con il tasto b c'è scritto buy loader brackets for 2000 dollari voi schiacciate il b e vedete che vi compra il l'attaccia per il caricatore frontale eccolo qua praticamente voi potete comprarlo se non lo volete più voi vi avvicinate lo schiacciate b e lo rivendete e questa cosa come come ho detto si può fare solo nello shop perché se siete in campo eccetera non lo potete fare quindi all'occhio come dirte è abbastanza buono adesso va bene non è sporco del tutto ma mi fido l'ho sporcato a metà e vedete che ci sono già le ruote sporche e si vedono già i parafanghi macchiati di marrone questo qui queste macchite sul cofano già andano già un effetto un effetto dirt c'è un effetto usato scusate molto molto carino mi piace come sollevatori cose idrauliche prese di forza timone gancio traino sollevatori braci terzo punto presi idrauliche pistoni eccetera veramente ottimo come guidabilità sospensioni è veramente veramente buono anche questa versione MR hanno fatto veramente un buon in game andiamo all'interno ecco qua all'interno vedete quando entrate c'è il volante che si alza abbiamo un ic che diciamo tutto sommato semplice porta sinistra porta destra finestrino destro finestrino sinistro qua e finestrino portellone dietro chiamarlo finestrino è un po diminutivo sopra non si apre niente qui nella console di comando non c'è nessun ic semplicissimo ai pedali animati a dopo poi vedete che quando ci sono i fari accesi nella nella console qui in parte vedete che si accendono le rispettive spie di chi fa di che di che fari avete diciamo accesi ecco qua come fare tutto quanto veramente ottimi una cosa molto molto bella che ho notata che non ho visto qua in quasi nessun trattore vedete le frecce che hanno la luce che praticamente lampeggia piano piano va tipo come si dice mi sfugge mi sfugge il termine praticamente non è che siano non vanno diciamo a spendersi accendersi velocemente ecco qua è un'altra cosa bella sono gli stop vedete anche le luci degli stop non sono diciamo a luce di colpo ma vanno ad scuscarsi piano piano vedete ecco qua allora come display vedete abbiamo i giri animati vedete qua pedali e inversore che si muove ovviamente avanti indietro poi abbiamo bene con i fari vedete che i fari alti si vedono anche nella plancia il comandino blu lì solito lo di fari alti e basta altro non ha indoor sound mi pa no scuse dovrebbe scusate dovrebbero dovrebbe avercelo non mi sfugge adesso sembra di sì che ce l'abbia non mi ricordo più ho avuto un lapsus scusate ok sì sì ce l'ha e niente altri comandi altre animazioni non non ce ne sono sì semplicissimo dentro non ha non ha un granché con il tasto y lo spegnete lo accendete e basta altri altri diciamo altre particolarità non ne ha specchietti sono diciamo scuri come il resto vi ripeto è veramente ottimo come modello mi piace mi piace mi è piaciuto veramente parecchio è veramente un buon modello anche qui quello con l'incaricatore funziona 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 molto bene molto molto bello da usare tasto m disassemblate tasto n disassemblate le altre ok niente ragazzi non ho altro da dirvi spero di non aver dimenticato niente dovrei aver detto dovrei aver detto tutto quanto questi per chi interessasse i caricatori non sono compresi nel pack su questi sono i cosi come si chiamano gli aloe che potete trovare sul mod on se sono il pack quello famoso che riuscite ancora tempo fa molto molto bello niente ragazzi vi lascio il link in descrizione vi lascio quello di fsu k che c'è anche la mod auto installante e tutto e niente adesso vedremo se magari in futuro ci sarà altre versioni ma credo che bjr si non è tanto solito a versioni se non per fix particolari vi ringrazio e ci vediamo presto in prossimi video ciao ciao